Oggi cogliamo l'occasione di due borse di studio che sono state date per gli studenti di questa scuola da ex studenti, la borsa di studio Durante e la borsa di studio Armeni, per premiare i ragazzi che si sono diplomati con risultati di eccellenza, cioè 100% in lode, e per premiare il ragazzo del Viennio, quindi delle classi prime e seconde, che ha avuto la media più alta. Si tratta di un modo per evidenziare e valorizzare ragazzi che si sono impegnati in maniera particolare durante il loro percorso e che hanno raggiunto risultati di eccellenza. E speriamo che questo possa essere un monito per i ragazzi che attualmente stanno frequentando. Speriamo anche che dai racconti dei ragazzi che si sono diplomati, che ci racconteranno che cosa stanno facendo adesso, quindi quali prospettive hanno per il futuro, possano gli studenti attuali di Quinta trarre ispirazione e magari anche un orientamento per le loro scelte.